La Chiesa Io credo in Gesù ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni dannose. Sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. But there's a real disconnect when you say, I have a personal relationship with the Lord Jesus, but no personal relationship with His Church. And in all honesty, I am greatly disturbed with the popular idea that you can have a personal relationship with Christ and be detached from the Church. That is just a very odd and unacceptable disconnect.